La corsa ad approvare questo aberrante provvedimento ha subito un'importante battuta d'arresto, questo grazie al lavoro dell'opposizione in Parlamento. Io sono orgogliosa che il PD sia stato una delle forze che si è opposto di più a questo provvedimento, ma grazie soprattutto lo dobbiamo riconoscere alla mobilitazione importante di tantissime associazioni che fuori dalle istituzioni hanno fatto sentire la loro voce. Senta, ma è stato rimandato, ma il relatore rimarrà sempre pillon? Assolutamente sì, purtroppo questo non è nella nostra disponibilità, è una prerogativa del Presidente che appartiene alla maggioranza, quindi noi su questo non abbiamo votato a favore di questa scelta, purtroppo non abbiamo potuto in nessun modo cambiare questa opzione, per noi questo è un fatto pericoloso, assolutamente, da scongiurare, ma purtroppo nel merito della scelta del relatore non possiamo intervenire. Intervederemo ovviamente sul testo che ci sarà presentato, che per quanto ci auguriamo possa essere diverso dai testi in base, sinceramente ci aspettiamo molto molto poco, non perché non vogliamo essere fiduciosi o carichi di speranze, ma perché non vogliamo rimanere drammaticamente, come dire, delusi. E sappiamo che purtroppo i testi si modificheranno davvero poco. Anche oggi tutto è successo su una dichiarazione dei 5 Stelle che continuavano a dire che i testi non c'erano più, allora noi abbiamo detto che se non ci sono più, noi non facciamo una discussione su qualcosa che non c'è più, quindi aspettiamo di vedere i nuovi testi. Siamo ancora semplicemente alle provocazioni e agli annunci, aspettiamo di vedere i fatti, alla prova del 9 guarderemo al merito senza pregiudizio come abbiamo fatto la volta precedente, devo dire che a guardare i fatti di oggi purtroppo non mi aspetto niente di buono da questa maggioranza e da questo governo.